La primavera per Silvio Berlusconi ha potuto spendere più di 200 milioni di euro per consulenti e giudici. La persecuzione naturalmente è avvocata. I sondaggi lo davano in caduta libera. Così, quando alle 3.32 del 6 aprile 2009 un terremoto sveglia perfino gli abitanti della casa del grande fratello e quando si scopre che un'intera città è stata limitata, per Silvio Berlusconi è come se Dio gli avesse teso ancora una volta la mano. Questo terremoto è stato un grandissimo successo. Nessun altro terremoto ha fatto l'ascolto che ha fatto questo. Non può riprendere. Che cosa? Il grande vento è ciò che il governo decide di essere il grande vento. Arriva il Papa, arrivederci e grazie, crei un grande vento. I giochi del Mediterraneo, i mondiali di nuoto, si fa la protezione civile. E le donne dove sono? Tutti gay, tutti gay. La prossima volta che vengo a trovarmi le porto io le peline. Occupati sta roba del terremoto, non è che c'è il terremoto al giorno. Io ti devo stare fino alle tre mesi. Io pure. Vabbò. Ciao, ciao.